Fabrizio, tu ci porti uno spettacolo dal titolo suggestivo e potente Come sono le parole di Aldo Moro, questo irridente silenzio che ha accompagnato la voce di Moro nel corso della prigionia e che si contrasta invece con la sua parola, forte, chiara, dalle risonanze quasi mitiche in alcuni momenti. Ecco, io, innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui, ma nelle interviste che ho letto, nelle tue dichiarazioni e anche dalle parole che tu hai pronunciato ieri sera, ho salvato alcuni termini molto interessanti. Un primo che mi ha molto colpito è il termine esperimento. Tu dici, voglio farle, hai detto anche ieri sera, non so se tutte le repliche avranno questo piccolo prologo direttamente rivolto al pubblico, ma ieri tu hai detto, voglio fare con voi un esperimento, voglio portare a galla queste parole e farle reagire, quasi come appunto in un esperimento di chimica, con voi per vedere se questo meteorite che viene dal passato ha ancora una valenza. Ecco, come è nato, so da un'occasione celebrativa, ma come è cresciuta in te questa passione e questo interesse così vitale da come traspare dal tuo spettacolo per questi scritti? Allora, uno, due, ci siamo? C'è? Ok. Sì. Allora, dunque, sì, l'occasione è stata, proprio l'occasione per iniziare questo, per avviare questo lavoro, è stata la proposta fatta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che si apriva casualmente due anni fa, il 9 maggio del 2018, ed erano i 40 anni esatti dalla morte di Moro. E allora Nicola Laggioia, che è il direttore del Salone, conoscendo un po' il mio teatro, mi aveva proposto di fare un lavoro libero, qualsiasi cosa avessi voluto fare, dandomi come input, dice, io so che tu lavori molto su materiali non destinati alla scena e che molto spesso incrociano letteratura, poesia, teatro, articoli di giornali, perché, visto che tanti grandi scrittori hanno parlato del caso Moro, non fai un lavoro di questo genere? Ed effettivamente gli autori sono tanti, a partire da Sciascia, Garboli, Calvino, il poeta Mario Luzzi, tanti sono rimasti, soprattutto di quella generazione, colpiti da questa pagina. Io ci ho pensato un po', e poi ho pensato appunto che non avevo tanta voglia di aggiungere cose alle tante cose che erano state già dette e scritte. E che mi sembrava invece, dopo averci pensato per qualche giorno, che curiosamente le parole di Moro, di cui noi conosciamo qualche piccolo frammento che ci è rimasto in testa, qualche incipit o qualche finale di una lettera alla moglie, la prima lettera a Cossiga, sono sotto un dominio pieno e incontrollato, ci sono delle cose che sono rimaste nella memoria di molti, ma queste carte sono sterminate. È un materiale molto grande, che peraltro è venuto in luce in tre tappe successive, ma oggi abbiamo a disposizione una novantina di lettere e 245 pagine di memoriale, che sono un materiale enorme e che io mi sarei aspettato che diventasse, che fosse diventato negli anni patrimonio collettivo della nostra storia, una cosa studiata nelle scuole. Invece mi ha molto lasciato stupito il fatto che questo non sia avvenuto e siccome non è avvenuto su quelle carte che erano invece in quei giorni e per tanti anni successivi anche, perché non sono solo i 55 giorni, fino al crollo del muro di Berlino, quelle carte erano dei segreti indicibili. E allora, quelle carte erano state l'ossessione di decine e decine di persone che volevano mettere a tutti i costi mano su quelle carte perché le ritenevano giustamente anche di vitale importanza per lo Stato. Alcune di queste persone sono morte addirittura per cercare queste carte o per essere entrato in contatto con queste carte, per essere stati testimoni, per aver avuto tra le mani dei fogli originali probabilmente, che non sono mai stati trovati. E poi dopo, quando ciascuno di noi invece poteva farci i conti, poteva leggerle, indagarle, è come se avessimo perso la voglia. È come se, come dicevo un po' ieri in questo prologo che faccio tutte le sere, avesse funzionato un'altra esortazione che più o meno silenziosamente, ma anche in maniera molto urlata, c'è stata impartita in questi anni. Cioè che la memoria storica del nostro paese è una cosa inutile, è una cosa che ci confonde le idee, è una cosa che ci impedisce di ragionare sulle novità che questo paese può esprimere. Per cui, perché andarsi a impelagare ancora in quanti furono realmente i morti della Shoah, come sono usciti dai campi di sterminio, cosa è successo durante il primo conflitto mondiale, perché un paese decide di allearsi e di stringere il patto con Hitler, con uno dei più pericolosi e pazzi sanguinari uomini di Stato dell'Europa, e successivamente perché interessarsi appunto di cose come la vicenda Moro. Ecco, io non credo assolutamente che tutto questo sia inutile, credo che ci sia molto spesso un disegno molto preciso, perché esortare la gente a dimenticare, confondendogli le tracce e iniziando a dire, ad esempio, che celebrare il 25 aprile è una cosa che non va fatta, perché è una data divisiva, perché c'entra buttarla in politica. Ora, fino a 20-30 anni fa, noi siamo stati cresciuti ed educati giustamente a pensare che è stata scritta una Costituzione italiana, che la Costituzione italiana nasce dalla resistenza. Non abbiamo mai pensato che tutto questo fosse divisivo. E allora poi ci siamo ritrovati a un certo punto che di qualsiasi cosa si parlava era o inutile o dannoso o pericoloso. E questo è il motivo per cui poi ho deciso di mettermi invece a lavorare su queste carte, perché da uomo di teatro penso che avere fiducia nei testi sia una cosa buona. Ho avuto la fortuna di passare diversi mesi in questo teatro con Luca Runconi ogni giorno, sette, otto ore, a scandagliare l'Eman Trilogy per tirare fuori da quelle parole dei significati che nessuno di noi riusciva a leggerci. E lui come un rabdomante diceva «No, ma leggi bene, sposta l'accento di là». E tu improvvisamente come per una magia scoprivi che quelle cose, che quelle due righe significavano altre venti cose a cui tu non avevi mai pensato. Allora questa forma di allenamento mi ha portato anche a dire «Vediamo cosa c'è in queste carte». Certamente la scuola di Runconi, che era uno straordinario speleologo di testi, davvero capace di dare anche a te i testi più noti. Tu citavi Lehmann, ma io ricordo provare Shakespeare, testi anche molto noti di Shakespeare, come «Il sogno di una notte di mezz'estate» e trovare in metafore apparentemente note ai più, perché molte volte lette inclinazioni o appunto accenti, come dici tu, assolutamente inediti. Quindi questa scuola ti è servita per, ovviamente tu hai lavorato su moltissimi altri testi, anche di estrema complessità, penso al tuo bellissimo lavoro su Gadda, ma devo dire che la lingua di Moro, che non è una lingua letteraria, ovviamente non nasce e non cresce con questo obiettivo, ha una prosa tutta sua, era noto e anche dileggiato sia dai suoi compagni di partito che anche e soprattutto ovviamente dai suoi oppositori, per aver inventato una modalità di comunicazione non comunicante, cioè parlare senza farsi capire, dire delle cose anche in modo molto strutturato, quindi in fondo di aver, come dice Shasha, insegnato alla DC a parlare in un modo incomprensibile. Ecco, tuttavia nella drammaturgia che tu hai fatto su questo grande materiale, tanti fogli, c'è un po' una genetica complessa tra i vari ritrovamenti, quindi insomma hai fatto un grande lavoro, ti confronti con una lingua che ha una potenza teatrale innata e soprattutto attraverso anche le varie fasi, tu fai un po' una diacronia, non vai in senso lineare, sempre ma sali e scendi nel tempo, si nota anche una trasformazione di Moro e della sua lingua, parliamo dell'aspetto linguistico più che dell'aspetto politico generale. Sì, per ripartire da Ronconi, Ronconi con cui io ho avuto la possibilità di lavorare per quei casi della vita che succedono, perché poi non è detto che tutti incontriamo tutti, ci sono tante persone che mi piacerebbe incontrare e che poi non incontro per un motivo o per l'altro. Ronconi mi è stato dato nell'ultimo periodo della sua vita, quindi non mi sono formato con lui e però, diciamo, non c'è neanche bisogno di premettere dalla distanza siderale che ci separa e che mi separa dal suo sapere e dalla sua pratica teatrale, quando ci siamo incontrati la prima volta nel suo ufficio al Teatro Streller lui la prima cosa che mi ha detto è stata io e te abbiamo fatto gadda. Ecco, no? Che diciamo è un modo che lui aveva anche molto avvolgente, diciamo, di farti sentire come lui, no? E tu dicevi, ah, Ronconi mi ha detto io e te, io e te abbiamo fatto gadda in Italia. Mi ha detto. Allora, e quindi già non puoi che stenderti ai suoi piedi. Però, quello che mi voleva dire è ho notato che tu hai una grande passione per qualcosa che appassiona anche me, che non è solo gadda, ma è la possibilità di inventare dei testi partendo da materiali assolutamente eterogenei rispetto alla scena. Pensiamo agli spettacoli che ha fatto a Infinitis, testi scientifici, di economia, ecco. Ed effettivamente lui aveva visto alcuni vedendoli, alcuni ripercorrendoli, che io avevo usato appunto per lo spettacolo su Pasolini, scritti corsari e lettere luterane che nascono come articoli di giornale, i diari di guerra e di prigionia di Gadda, altre volte un romanzo come poteva essere lo straniero di Camus, e che anch'io avevo misurato la forza dei testi dalla lingua. Cioè, molto spesso mi sono detto ma ci sono alcuni testi scritti per la scena che sono molto meno efficaci di alcuni testi che sono destinati a tutt'altro e che però contengono una lingua misteriosamente teatralissima. Questo è il caso anche della lingua di Moro, per arrivare poi alla tua domanda. Cioè, è come se Moro in quei 55 giorni avesse costretto non soltanto tutto l'arcobaleno delle pulsioni umane in quella prigione, dalla tenerezza, allo struggimento, alla rabbia, alla disperazione, al ragionamento politico, alla riflessione pacata. C'è una cosa molto bella e anche molto velenosa che lui dice verso la fine ai suoi compagni di partito. Dice, sì, ora non mi ricordo con esattezza le parole, ma il senso è si ragiona anche meglio, si vedono anche meglio le cose quando si ha a che fare con facce nuove. E stava parlando delle facce dei brigadisti, quindi Moro che dica ho imparato a rivedere le cose frequentando facce nuove, è quasi una bestemmia, quindi aveva anche un sottile sapore provocatorio. Ma lo diceva anche sinceramente. Cioè, dice, io in questo periodo sono stato isolato per quanto filtrassero nella prigione cose, articoli, reazioni, lettere, ma ha avuto la possibilità come, ecco, un po' come diciamo in maniera completamente diciamo irragionevole come paragone, ma nel lockdown ciascuno di noi improvvisamente ha detto oh, in un isolamento totale per la prima volta ho avuto il tempo di pensare a queste cose. Ora, fortunatamente la nostra è stata una clausura diciamo temporanea, speriamo, e non così tragica come quella, anche se molti l'hanno vissuta in maniera ugualmente tragica, però, ecco, quando si ha lo spazio e lui in quello spazio riesce non a parlare in un altro modo, perché non è vero che Moro diciamo come dicevano i suoi detrattori aveva inventato un linguaggio in cui comunicava senza dire nulla, ma mai lo ha fatto Moro, Moro ha sempre detto qualcosa, ma probabilmente anche per la sua formazione meridionale per un certo gusto per un'architettura barocca ma anche per una grande capacità di articolare la parabola di una frase rendendola estenuante lunghissima molto spesso fiaccava i suoi interlocutori all'epoca si facevano i congressi di partito in cui non solo Moro ma gli statisti e i segretari erano in grado di parlare per sette ore consecutive che è una cosa che oggi non sarebbe proprio minimamente concepibile perché viviamo in un tempo così accelerato che già dopo un'ora uno dice vabbè stringi cioè che vuoi dire non mi puoi convocare qui per parlarmi più di un'ora e un quarto ecco questo ad esempio è un problema che Ronconi non si poneva non si poneva mai giustamente diceva non è un problema mio se l'attenzione del pubblico è un'attenzione intermittente va bene se dopo cinque ore sei ore di spettacolo loro decidono a un certo punto di interrompere e poi riprendono non è una cosa brutta ecco capito e aveva ragione lui naturalmente se hai la possibilità di seguire tutto comprendi di più e segui di più le linee ma quello che lui diceva è ma perché io devo essere schiavo dei tempi dell'ascolto e allora con la libertà che avevano i grandi maestri che hanno i grandi maestri si poteva permettere di dire io faccio uno spettacolo di sei ore o di sette ore perché quello è l'arco che a me serve Moro durante i 55 giorni semplicemente affina è come se passasse proprio al setaccio la sua lingua che rimane la stessa ma la asciuga completamente mantenendo una prosa straordinaria perché insomma in quel contesto una persona disperata che sta per morire che riesce a coniare espressioni linguistiche come continue con la vostra mistica inerzia con il vostro irridente silenzio avete offeso la mia persona e la mia famiglia ma continuamente in ogni lettera in ogni passo lui arriva a delle altezze linguistiche e di ragionamento cioè la sfida che fa Moro è quella di fronte alle brigate rosse che gli puntano materialmente le armi addosso ora non so se nel momento in cui lo interrogavano probabilmente no perché si sentivano al sicuro ma era un uomo minacciato non è che lui rispondeva con i tempi che decidevano i brigatisti diceva voi volete sapere della strategia della tensione io vi rispondo però abituatevi che queste materie sono materie complesse non si risponde con un sì e con un no non si risponde con lui è colpevole lui è innocente se io non vi do il quadro nazionale internazionale voi non capirete niente quindi lo faccio per voi non per me se volete e quindi diventavano anche delle lezioni di storia che non servivano a Moro per nascondere quello che voleva dire non era un escamotage per dire adesso questi hanno meno struttura di me meno conoscenze adesso li intorto io con un grande discorso in cui dico tutto e dico niente no Moro dice tutto nomi cognomi date rivela effettivamente segreti di stato è costretto a rivelare segreti di stato quindi questa era la grande domanda che poi io faccio insieme a tutto questo lavoro è perché le Brigate Rosse avendo a disposizione tutto questo non divulgano nulla dopo aver detto il prigioniero sta collaborando tutto verrà reso noto al popolo questo termine il popolo la gente a cui ci siamo molto abituati il popolo deve sapere ecco è al popolo che gli avete detto avete nascosto tutto non ci dite dove stanno gli originali dite che avete bruciato le registrazioni ma diteci una buona volta che quel materiale è stato l'oggetto vero della trattativa con lo Stato ditecelo che del corpo di Moro vi interessava relativamente sono passati 40 anni siamo navigati abbiamo assistito ad altre trattative successivamente e c'è un modo per parlare delle trattative che non è necessariamente un modo giudicante la trattativa Stato-mafia allora vediamo chi è stato colluso eccetera può darsi che ci siano persone che hanno trattato con la mafia per dei patti indicibili e per salvarsi la pelle e può darsi che ci siano stati grandi uomini di Stato che hanno trattato per evitare dei guai molto peggiori per evitare delle stragi per evitare che venissero infettate le spiagge della Romagna con le siringhe contenenti l'AIDS che esplodessero delle bombe allo Stadio Olimpico e uccidessero decine di migliaia di persone cose che poi noi magari accidentalmente veniamo a conoscere in un piccolo articolo di giornale che poi cancelliamo e che magari sono state l'ossessione di un uomo di Stato che ha detto cosa faccio io adesso cosa faccio a lento per qualche mese il 41 bis a qualche mafioso o affronto uno scontro in cui in qualsiasi giorno possono morire delle persone e ugualmente Moro rivela a un certo punto il lodo Moro che era una cosa segretissima cioè far passare i terroristi palestinesi non arrestandoli e facendoli passare armati sul suolo italiano per disinnescare un conflitto sanguinosissimo con Israele che faceva centinaia di morti ogni anno allora quei segreti allora tu che li custodisci sai perché li hai messi in campo c'è chi li mette in campo per ragioni nobili e anche discutibili poi noi possiamo anche dire lo Stato non si deve preoccupare di infrangere la legge per salvarci lo Stato deve essere puro e quindi poi anche se muoiono delle persone pazienza e poi ci sono delle persone che invece magari hanno trattato quei segreti quelle carte per interessi personali e allora lì si occorre andare a vedere e in questo senso le carte di Moro contengono secondo me proprio tu citavi Shakespeare dei momenti che non sono non sarebbero stati pensabili neanche da Shakespeare cioè le pagine finali del memoriale sono un incontro scontro tra Amleto e Riccardo Terzo peraltro Moro veniva chiamato l'Amleto di Maglie sempre come a modi sfottò cioè no per dire Amleto una persona indecisa che non sa se agire non agire anche Moro è sempre prigioniero della destra della sinistra di prendere una linea mediana e quindi lo chiamavano l'Amleto di Maglie e poi c'è un Riccardo Terzo con la fisionomia anche con la gobba persino che è un suo compagno di partito e alla fine ora non voglio anticipare nulla a chi non ha visto lo spettacolo ma ci sono dei momenti che veramente fanno venire la pelle d'oca per la sincerità con cui vengono esposti e anche per quello che ci permettono di capire che cos'è un uomo di potere chi è un uomo di stato c'è un uomo di stato buono e un uomo di stato cattivo c'è una tendenza al bene e una tendenza al male è la nostra testa che richiede necessariamente di dire chi è il buono chi è il cattivo però è una cosa che ci fa molto comodo Moro anche quando punta il dito contro delle persone e dice lei ha fatto il male sempre nella sua vita poi riesce a dire ma io quel male non l'ho voluto guardare perché mi faceva paura perché stava accanto a me e questo è una cosa che io resisto sempre alla tentazione di dire i politici di oggi se lo sognano perché è come sparare sulla croce rossa diciamo è uno sport fin troppo come parlavano bene come parlano male perché poi molto spesso è anche la lente del tempo diciamo che ci fa sembrare tutto più bello in bianco e nero magari fra un po' di anni scopriremo che c'è persino del bene in questo tempo così opaco però ecco la lingua è stata una cosa molto avvincente è davvero una scoperta in questo senso quando tu dici che è uno dei tuoi come dire anche punti in comune con Ronconi visto che l'abbiamo giocato più volte ma è uno delle tue modalità di lavoro e portare in scena testi non necessariamente teatrali e scoprire come questi possano reagire con la scena ecco effettivamente tutto questo materiale prende una corporeità teatrale notevolissima grazie alla lingua sicuramente al tuo lavoro di drammaturgia ma anche al tuo lavoro di interprete perché appunto io non voglio dire niente allo spettacolo perché lo vedrete ma tu inserisci dei piccoli segni corporei un lavoro sul respiro sul fiato proprio molto importante molto efficace nel comunicare un ritmo e una forza al pubblico almeno io l'ho percepito così ho pensato anche appunto a quanto è stato detto anche dallo stesso Calvino rispetto a Moro che dice mi sono segnata la frase perché se no cito sempre in modo sbagliato Calvino che scrive nel 78 proprio poco dopo la morte di Moro scrive di Moro della sua capacità di aver raggiunto di aver avuto l'uso del discorso nel cuore del terrore per cui questo uso del discorso nel cuore del terrore che già la lettura suggerisce non solo ovviamente ci porta a temi di natura politica di una gravità e di un'urgenza notevoli ma porta anche a valutare lo spessore umano di Moro questo che tu dicevi questa parola potere che appare alla fine che appare solo alla fine parlando di compagni di partito e parlando appunto di valori e anche questa capacità quasi paradossale di imparare cose su di sé attraverso le esperienze di dire anche in un'esperienza limite come quella della prigionia e con lo spettolo della morte evidentemente presentissimo io ho capito delle cose di me e delle cose che non ho voluto vedere fino ad oggi ci sarebbe voluto uno psicanalista per leggere questo comportamento effettivamente quello che colpisce sia per la forza con cui tu porti tutto questo materiale in scena è questa auto questa consapevolezza di sé questa autoanalisi fino in fondo al di là della visione e dello specchio della società e delle dinamiche politiche questa autoanalisi che a me ha colpito moltissimo eh sì sì certo mi viene fin troppo facile pensare stando qui all'autoanalisi dei sogni di Freud avendo attraversato diciamo questo due anni fa Freud inizia a scrivere l'interpretazione dei sogni come abbiamo raccontato nell'altra parte del chiostro forse sì eravamo di là riflettendo sui suoi sogni e poi iniziando a elaborare un metodo per interpretare i sogni degli altri per decifrare questa lingua dell'inconscio questo materiale questo testo e ciò di cui parla Moro è anche una storia di padri di figli di nipoti che compaiono di famiglie compaiono nelle lettere scrive ai suoi figli scrive al suo nipote amatissimo poi ci sono i padri simbolici i figli simbolici in quel momento i figli tanti figli di uomini di stato erano impegnati politicamente magari a scuola magari all'università su fronti opposti a quello del padre arrivando anche diciamo alle punte estreme di figli di statisti della democrazia cristiana che entrano in prima linea nelle brigate rosse cioè c'è uno scontro generazionale fortissimo ma anche quello che c'era nelle scuole nelle università la contestazione di lama che era il grande capo venerato della della cgl da parte degli studenti estremisti che gli contestavano la sua linea politica cioè erano degli scontri come fu il 68 gli anni 70 anche degli scontri generazionali quindi Moro parla anche ad altre generazioni e poi la famiglia che nel suo caso ha una duplice valenza c'è la sua famiglia privata e poi c'è la famiglia dei suoi compagni di partito cioè lui considera la democrazia cristiana una famiglia che ha una seconda famiglia che ha creato e la sua disperazione come poi spesso succede a tante persone dice ma io ho sacrificato la mia famiglia per occuparmi la maggior parte del mio tempo di questa famiglia e da questa seconda famiglia sono stato tradito perché questa è anche una storia di un tradimento di un tradimento mortale perché siete tutti d'accordo nel decretare la mia condanna a morte com'è possibile io vi sono fratello abbiamo ragionato insieme abbiamo io sono io sono qui casualmente perché sono un simbolo ma siamo tutti noi che siamo in questa prigione dice da subito ai suoi colleghi di partito anzi moralmente dovresti esserci tu al mio posto dice a Zaccagnini perché tu mi hai supplicato di fare il presidente della DC e io non lo volevo fare e poi mi sono piegato e adesso mi ritrovo qui per averti detto di sì però cerca quantomeno di stare con l'animo qui dentro e invece Moro progressivamente vede che da fuori non solo prendono le distanze ma iniziano a fargli una tortura ancora più grande cioè a dire Moro non è Moro Moro è drogato Moro è impazzito Moro è vittima della sindrome di Stoccolma e lui in tutte le lettere urlava questa cosa ma perché mi state facendo questo ma non vedete che le parole che io uso il ragionamento è mio è soltanto mio ma perché non vedete perché mi state facendo questa cosa perché anche gli amici più cari si stanno lasciando irritire in questa cosa guardate che questa è veramente una tortura cioè è un'esperienza primaria è come quando il bambino per la prima volta non viene creduto dai suoi genitori no dopo tante bugie dette invece non ha detto una bugia non ha fatto niente di male i genitori dicono non ti credo no è un tradimento dice ma perché non si si è una negazione addirittura della sua identità è una negazione dell'identità che ha una violenza soprattutto perché è percepita in quel contesto ha una violenza da tragedia e qui usiamo il termine tragedia in senso teatrale e Moro risponde a questa violenza con una violenza inaspettata cioè la cosa che è veramente sconvolgente in questo materiale è anche fastidiosa è anche difficile da digerire per me che mi metto queste parole addosso e per le persone che lo condividono con me è che si sentono delle cose che non fanno piacere cioè vedere un uomo veramente arrabbiato ma vedere un uomo profondamente arrabbiato un uomo mite come si dice spesso le persone miti poi se le fa incazzare possono diventare di una Moro diventa di una violenza inaudita e questo ce l'hanno sempre tenuto nascosto cioè è stato sempre molto più facile dire celebriamo Aldo Moro che si è sacrificato in un calvario eccetera mettiamolo in una teca facciamone un santo magari santifichiamolo anche però dimentichiamoci il passato ecco no Moro è santo si è immolato per tutti noi ma adesso non ne parliamo più dai parliamo di che cosa si fa al prossimo consiglio dei ministri no che fa di Battista esce non esce ecco questo ci interessa di più la polemica del giorno e di polemica del giorno in polemica del giorno ci fanno perdere la memoria no Moro non era un santo assolutamente non era un santo o se vogliamo rimanere all'interno dell'iconografia e della tradizione cristiana Moro è violento come era violento Gesù Moro Gesù come dire si fa uomo e quando si fa uomo può diventare violentissimo può usare un linguaggio che se si leggono bene i Vangeli dice ma che ha detto Gesù questo eh sì ha detto Gesù ma come non è il messaggio d'amore come fa a dire con la spada vi divido voi dovete separarvi dalle vostre famiglie a parte i mercati dal tempio c'è i mercanti del tempio ma Moro può raggiungere quei livelli di violenza che sono e non è solo una violenza che si oppone a un'altra violenza Moro è un uomo di stato che custodisce segreti di tutti perché ha vissuto per 33 anni casualmente con queste persone e diciamo i numeri non sono casuali 33 anni di matrimonio e 33 anni di appartenenza alla DC quindi loro apiscono nel suo trentatresimo anno di famiglia Moro può essere anche sottilmente ricattatorio e questo è è sgradevole da sentire perché dice ma come un uomo così no la prima lettera a Cossiga è una lettera che è difficile da digerire tiratemi fuori di qui perché se mi costringono a parlare potrebbe essere sgradevole e pericoloso per molti di voi però bisogna ancora una volta inquadrare tutto questo in un discorso più ampio se no si iniziano a dare dei giudizi ah Moro non è stato un eroe ecco non si è comportato in maniera decorosa gli eroi lasciano delle lettere eroiche in cui dicono mamma vado a morire mi faccio cavare gli occhi no come i ragazzi condannati a morte della resistenza molti hanno lasciato lettere indimenticabili Moro no Moro lascia delle lettere molto più umane molto più complesse molto più difficili da da farci i conti non voglio appunto di nuovo ripeto dare troppi dettagli sul tuo spettacolo però tu hai prima citato l'iconografia in realtà per riferirti all'iconografia cristica eccetera però c'è anche un tema molto forte rispetto all'iconografia di Moro parlo ovviamente dell'iconografia relativa al rapimento la sua foto famosa con il giornale Repubblica su Repubblica per non parlare poi altro riferimento che tu hai già fatto dell'iconografia relativa al ritrovamento del corpo di Moro tu non fai questo va bene lo posso anticipare non fai un lavoro di riferimento a questo fantasma che è il corpo di Moro ne fai un altro molto interessante ci hai pensato se utilizzare delle immagini ne usi una ma non voglio dire quale se utilizzare delle immagini nel lavoro sullo spazio che tu fai hai valutato questa ipotesi o hai sempre pensato di fare senza no l'ho scartata immediatamente come l'ho scartata quasi sempre dai miei spettacoli perché in qualche modo penso che le immagini se non hanno come dire un valore evocativo come l'immagine finale ma hanno una funzione didascalica cioè parliamo del tale uomo politico appare la foto dell'uomo politico magari in una espressione inconsueta parliamo evochiamo il 16 marzo e facciamo vedere un'immagine di via Fani eccetera però questo diciamo appartiene più a un genere cronachistico di inchiesta in cui essere didascalici ha una funzione in quel momento per portare avanti un discorso logico il teatro non è una cosa logica anche quando parla di storia e quindi io non parlo e non faccio vedere immagini proprio perché ci tengo così tanto ai corpi e ai fantasmi cioè questo non non bisognerebbe dirlo perché poi le cose o succedono o non succedono ma per me ogni sera l'esperimento consiste non soltanto nel vedere se queste carte interagiscono con i nostri corpi e se arrivano a destinazione o se toccano una parte della testa e uno dice ah sì sì certo che storia quella di Moro e c'è ah ma è interessante non mi ricordavo quella cosa però rimane tutto qui se tocca i nostri corpi profondamente nel bene e nel male qualcosa sta succedendo e l'altra cosa è in un caso come questo più che mai il teatro è sempre una faccenda di fantasmi e quindi questo esperimento consiste anche nel dire cerchiamo di immaginarci cosa potrebbe succedere attraverso il gioco del teatro giocato seriamente se arrivasse oggi il fantasma di Moro con queste carte a dirci ma le avete lette queste cose ma perché non le leggete come sottotesto diciamo no ma perché non interessa più a nessuno questa cosa perché mi celebrate il 16 marzo e il 9 maggio ogni anno continuando peraltro a ripetere una giaculatoria storica improponibile perché quello che ci raccontano ogni anno è una cosa che non sta in piedi da nessuna parte sia da parte dei protagonisti dello stato dell'epoca sia da parte dei brigatisti che si sono ben accordati per ripetere a futura memoria una loro versione dei fatti insieme per preservare la loro purezza ecco che succede se invece torna il fantasma di Pasolini o il fantasma di Gadda o il fantasma a farci rivivere quella cosa ma non per ricordarcelo non solo per ricordarcela ecco il valore della memoria a teatro non è uguale a quello dei libri di storia o a quella che si insegna nelle università o si dovrebbe insegnare speriamo nelle scuole ma un valore lavora su altri segni diciamo su un altro sistema di segni e quindi è una memoria emotiva innanzitutto è una memoria fisica ed è quella la memoria che mi interessa non è soltanto fare uno spettacolo in cui si ricorda le carte di Moro vabbè ma non è che stiamo all'università insomma ecco l'esperimento consiste in questo ha a che fare o non ha a che fare con noi possiamo anche decidere sera per sera che su 170 spettatori 150 se una sera va male dicono è stato molto interessante è stato molto interessante perché tante cose non le sapevo tante cose non me le ricordavo mi ha fatto pensare a tante cose poi le ha anche dette bene poi in alcuni momenti sembrava anche Moro e allora ma poi mi è piaciuta quella cosa ecco non ha a che fare se il pubblico esce ma non per colpa sua né per colpa di chi sta in scena ma perché c'è qualcosa sotto che si crea o non si crea e bisogna anche accettare il fallimento e invece magari ci sono delle sei e dieci persone invece escono dal teatro che dicono io sono sconvolto sono sconvolto piangono a scoppio ritardato e magari ci sono altre serate in cui centocinquanta spettatori sono sconvolti e dieci dicono sì no ma interessante caso Moro una pagina importante della nostra storia ecco l'esperimento è questo sera per sera vedere a chi arriva addosso e non è merito di nessuno né dell'attore né del sì l'attore diciamo deve un pochino adoperarsi per creare ecco da questo punto di vista tu prima citavi il respiro che è una cosa su cui io lavoro molto non solo il mio ma il respiro della sala cioè creare un respiro comune no per cui alla fine tanti individui entrano in teatro ognuno col suo problema e cosa e le malattie e il parcheggio la babysitter il nipotino e la cosa e le bollete e poi entriamo in uno spazio in cui iniziamo tutti a respirare piano piano uniformando il nostro respiro quello è un rito magico certo non so se anticipo una tua domanda ma le mascherine che ci fanno in tutto questo e fanno faticare molto di più perché io lo sento ma non è che mi dà fastidio vedere le mascherine però sento che c'è un respiro bloccato sento che ci sono dei corpi che sono costretti a ringoiarsi il respiro e tutti insieme facciamo più fatica a creare quella seduta spiritica che serve per portare fuori un fantasma però si può fare si può fare ugualmente si può fare anche una forma di amore di resistenza che in questo momento secondo me ci fa bene fa bene a chi ama il teatro sia sul palcoscenico ma anche in sala grazie a tutti